voglio dire veramente sono stati meravigliosi nella loro disponibilità e quindi Ludovica e Martina ci parleranno sinteticamente della storia, parecchi di voi hanno fatto le visite guidate in questo luogo che è stato un luogo di sofferenza e di reclusione dove hanno sviluppato e ora ci vuole un'altra idea di intervento sanitario Ciao a tutti, sono Ludovica, non sono Novella che era la compagna che doveva intervenire io sarò molto breve perché sono un pessimo ripiego quindi sarò molto veloce a descrivervi quello che facciamo qui da queste parti. Per raccontarvi come è iniziata l'esperienza del nostro ex OPG mi riallaccio a quello che hai detto tu prima nel parlare con l'altro compagno nel dire a volte ci sono delle forzature burocratiche che si devono fare, noi una volta abbiamo detto utilizzando le parole di una compagna che per descrivere il posto ad una scolaresca dicevamo è vero noi quando siamo entrati in questo posto l'abbiamo occupato, eravamo contro la legge però diciamo che noi eseguiamo un'altra legge, un'altra giustizia che è quella che è la giustizia sociale che ci impone di dover, non descrivere, ricreare un'altra realtà, di doverla trasformare e quindi questo posto aveva questa intenzione di dover ritrovare un contatto con le persone nella nostra attività di militanza politica, di dover rispondere effettivamente alle esigenze di una città particolare e soprattutto alle esigenze di un quartiere che pur essendo a ridosso del centro storico che sta diventando sempre più una vetrina, ha delle difficoltà enormi per cui siamo entrati in questo posto che era già caratteristico perché era ancora molto presente nella memoria del quartiere, era stato lasciato disabitato dal 2008, se così si può descrivere un carcere psichiatrico come disabitato, in teoria in realtà non c'era una effettiva vita in questo posto, era stato abbandonato da 8 anni, noi l'abbiamo occupato dopo un bel po' di resistenza che abbiamo fatto anche grazie all'aiuto del quartiere che volontariamente si è messo insieme a noi a resistere ai tentativi di sgombero, abbiamo iniziato a creare tutta una serie di attività che permettessero di rispondere ai bisogni immediati del posto e del quartiere, è per questo che è nato l'ambulatorio popolare, è per questo che è nato il dopo scuola per i bambini, per i ragazzi del quartiere e per questo che è nata la Camera Popolare del Lavoro, che sono tutti i settori che per noi sono cardine che sono essenziali per poter riconquistare tutta una fetta di diritti che col tempo viene costantemente mangiata e di cui ormai non abbiamo più la percezione. Il tentativo di ricostruire e continuare a costruire tutti quanti insieme noi diciamo sempre che continuiamo a costruire solidarietà, la solidarietà ci serve come aroma, ci serve per poter resistere a tutti gli attacchi che ci vengono fatti e ci serve soprattutto per poter ricostruire, perché il fatto di ricominciare da capo tutti insieme ci permette di dimenticare che queste cose accadano nel nostro Stato e accadano per tutti distintamente, quindi noi diciamo sempre che la solidarietà diventa un presidio di resistenza ed è in questo che cerchiamo di attuare tutti i giorni da queste parti. La struttura parla per sé, noi abbiamo per me un motto bellissimo, cioè che dove era prigione abbiamo fatto libertà e se voi venite uno di questi in un giorno qualunque all'OPG, che sia oggi sia durante la settimana, vi renderete conto che abbiamo abitato diversamente questo luogo ed è questa la cosa più bella che ci permette di continuare a stare da queste parti. vedere che la gente è curiosa di venire a vedere quello che era per avere la percezione di cosa fossero questi posti, di vedere il quartiere che viene a vedere come si è trasformato perché ricorda i detenuti che passeggiavano nelle ore d'aria, vedere questo posto vivo di gente che si attiva, che si mette a disposizione, di ragazzi che vengono in assemblea, che ascoltano, che poi vediamo in piazza nelle lotte e questo ci restituisce il senso di quella libertà che ogni giorno vogliamo continuare a portare avanti. Adesso, visto che siamo in comune di medicina democratica, lascio la parola a chi cerca di ricostruire un'altra idea di sanità e che tutti i giorni lo fa perché è una nostra differenza e quindi passo la parola a Martina. Allora, brevemente cerco di descrivervi un po' qual è la nostra esperienza all'interno dell'ambulatore popolare e un po' alcuni focus delle nostre attività. Allora, noi siamo un gruppo di 40 operatori sanitari, di fatto i medici sono solo una parte di questi operatori, ci sono infermieri, nutrizionisti, psicologi e anche studenti di medicina che sono una colonna portante della nostra attività. Ci riuniamo due volte al mese per discutere sia di dettagli organizzativi e ce ne sono tanti perché abbiamo un'utenza consistente, l'anno scorso abbiamo chiuso a mille accessi e per discutere quindi dettagli organizzativi ma anche di temi che riguardano la sanità e la salute anche più in generale. Il nostro ambulatorio è formato da uno sportello di medicina generale, da diversi sportelli specialistici che sono sempre in aumento, un supporto anche di uno sportello diagnostico, quindi diagnostica ecografica, uno sportello d'ascolto e uno sportello nutrizionale. Qui ci tengo un po' a sottolineare il senso di quello che noi facciamo. Effettivamente noi prestiamo un'attività di orientamento al sistema sanitario che è cardine per noi e un'attività anche di effettiva assistenza che chiaramente è gratuita ed è volontaria. Perché ci tengo a sottolineare? Perché noi non abbiamo l'intento di sostituirci al sistema sanitario nazionale. Sicuramente mettiamo alcune pezze a colore in dei frangenti ma cerchiamo di innanzitutto registrare quali sono le necessità. La nostra esistenza, così come l'assistenza di altri presidi di salute solidale, dimostra, e non solo l'esistenza ma anche l'utenza crescente, i numeri che accedono a questi presidi dimostrano di fatto un vuoto nell'assistenza. Quindi noi cerchiamo di registrare quali siano i bisogni delle persone per portare poi queste contraddizioni, queste problematiche al di fuori di questo posto, che poi è il momento fondamentale della nostra azione. Perché è importante questo? E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso un'attività d'inchiesta. Tutte le persone che entrano, che accedono ai nostri ambulatori, gli vengono sottoposti dei questionari, in cui si cercano di evidenziare innanzitutto la provenienza, ma anche e soprattutto il motivo per cui accedono al nostro presidio e non accedono al sistema sanitario nazionale. E qui abbiamo vari tipi di utenza, abbiamo i cosiddetti esclusi dal sistema sanitario nazionale e gli esclusi di fatto, cioè quelli che di fatto per problemi di liste d'attesa, per problemi di ticket, non riescono ad accedere a un diritto, al diritto alla salute e al diritto alle cure. Quindi noi appunto la pezza a colori, ma c'è anche il momento in cui cerchiamo di presentare il servizio di dove c'è, di orientare l'accesso al servizio, fondamentale in questo penso a due categorie, che sono i migranti che hanno diritto per esempio all'STP, ma non sanno come ottenerlo, uno gli viene indicato nei servizi di accoglienza e questo lo facciamo in collaborazione con altre attività dell'OPG, per esempio il controllo popolare nei centri di accoglienza, svolto dal gruppo migranti, o con la rete di solidarietà sociale, per quanto riguarda il secondo gruppo che di fatto non accede alle cure, che sono i senza fissa dimora e su questo c'è un'attività dello sportello legale rispetto al fatto di fargli ottenere la residenza virtuale per fargli voi accedere. Quindi insomma le attività sono chiaramente integrate, questo all'interno dell'OPG, e quindi recuperare gli esclusi che sono esclusi di fatto o esclusi per legge alle cure. Quindi attività d'inchiesta, l'attività d'inchiesta però ci dà anche un'altra opportunità, e su questo voglio dire qualcosa che sta succedendo, è successo ieri, sta succedendo in questi giorni, infatti noi abbiamo un database che stiamo informatizzando di tutti i dati che riceviamo, che sono notevoli, sono molti, e in questi giorni tre colleghe, tre rappresentanti dell'ambulatorio popolare hanno presentato ieri a Catania un abstract che è stato accettato al congresso di medicina delle migrazioni su i dati a valle, che abbiamo ricevuto a valle rispetto al controllo popolare nei CAS. Cosa abbiamo fatto? Il controllo popolare visita i centri di accoglienza, attraverso riunioni con assemblee fatte con i migranti vengono rilevati quali sono effettivamente i criteri di assistenza delle persone migranti vengono rispettate o meno, lì dove non vengono rispettate il problema viene fatto emergere e si cerca anche eventualmente, nel frattempo che lo si risolve in maniera anche dal punto di vista burocratico, anche di aiutarli, e quindi l'ambulatorio popolare insieme alla scuola italiana, così come lo sportello legale per migranti, è uno di questi tasselli. Da tutti i dati recepiti a valle delle persone che venivano da noi, dai CAS, è nato appunto questo abstract che evidenzia dati allarmanti, cioè queste persone non hanno un medico di riferimento, non vengono indirizzate all'STP, quindi lì dove anche i diritti ci sono non vengono chiaramente comunicati e quindi non possono essere fatti valere. Perché per noi è importante essere al congresso di medicina delle migrazioni? Perché pensiamo che è importante che le sedi lì dove la scienza viene prodotta o viene comunque condivisa, così come le sedi istituzionali, così come appunto i congressi, le sedi più accademiche, devono essere contaminate da quello che succede nella realtà, cioè le lotte sociali devono arrivare lì, così come qui deve arrivare questo mondo. Questa continua contaminazione forse può portarci avanti. Altra piccola cosa che volevo dire sullo sportello d'ascolto, ho sentito degli interventi rispetto alla questione di saggio psichico, qui chiaramente ho parlato di sportello d'ascolto, non è un presidio che si sostituisce come presidio di salute mentale, ma anche qui è di orientamento e di accesso alle cure, anche perché pensiamo che il disagio psichico sia fortemente connesso quello che è il disagio sociale. Quindi l'esistenza di questo posto, come altri, lì dove l'accoglienza non è legata alla classe sociale di appartenenza, al reddito, lì dove appunto si rispettano quelli che sono le idee di antisessismo, di antirazzismo, di antifascismo, rappresenta già di per sé un'azione di prevenzione e anche di, tra virgolette, lasciatemi passare il tema di cura rispetto a queste situazioni di disagio sociale e psichico e poi chiaramente c'è un orientamento verso il sistema sanitario. Chiudo solo con una cosa, cioè perché uno sportello, un ambulatorio popolare fa bene anche ai medici e agli operatori sanitari? Mi permetto di fare questo appunto perché comunque siamo al congresso di medicina democatica. Lavora non solo sul disagio, ma lavora anche sugli operatori. Lì dove anche ci sono buone idee, la sanità in cui siamo calati ci mette a volte in delle condizioni sia pratiche ma anche, come dire, ci indirizza mentalmente in una direzione che è lontana dall'esigenza del malato. Sicuramente la sanità è più medico-centrica che paziente-centrica, dall'educazione poi alla pratica. E quindi sicuramente il nostro sportello attraverso le assemblee, attraverso tanti medici che si sono avvicinati solo per dare una mano, per fare quello che fanno a pagamento gratis, di fatto poi lavora anche su noi e come noi poi lavoriamo anche nel pubblico. Finito. Grazie davvero. Allora, qui ci sta un'altra donna che rappresenta un'esperienza incredibile che è quella del coordinamento sanitario.